Pietro Busetta dunque è il nuovo presidente del CUPA, perché questa scelta? Busetta è un economista stimato siciliano che da sempre si occupa di fenomeni congiunturali della nostra terra in un territorio che ambisce a darsi riscatto economico può essere una di quelle figure utili a far fare un salto di qualità ulteriore insieme a quello che è già avvenuto con Gaetano Armao che considera una sorta di momento di strambata rispetto al percorso che nel recente passato si era determinato e poi noi dobbiamo pensare ad un consorzio che continua ad essere aperto al territorio Busetta è il presidente della Fondazione Curella e in questo senso io ci vedo anche elementi che possono costituire una vera e propria apertura al territorio in un consorzio universitario che così come gli altri consorzi universitari siciliani deve ridiscutere la sua missione con il nuovo governo della regione il fatto che all'economia ci sia Armao come componente di questo governo regionale che è già stato presidente è da un certo punto di vista un elemento che ci fa ben pensare perché conosce bene le questioni che si attagliano alle vicende dei consorzi universitari le ha vissute, ne è stato anche il portatore di istanza nei confronti del precedente governo regionale e poi alla parte formazione e istruzione c'è una vecchia conoscenza del consorzio universitario che è la Galla e mi auguro che nel nuovo ruolo utilizzi quell'esperienza che fu direttore dell'università di Palermo e prima ancora di presidente di questo consorzio universitario e quindi aiuti questa operazione di cordone sanitario che dobbiamo stendere per non solo salvarlo ma soprattutto per far lievitare la missione che il consorzio deve avere nel nostro territorio Busetta come ha accettato l'incarico? Busetta è molto entusiasta e quindi vuole scommettersi però prossimamente parlerete voi con lui ed è uno che al territorio agrigentino c'è molto legato l'originario come sapete di Lampedusa ha sempre avuto un ruolo centrale nella facoltà di economia a Palermo e credo che sia una bella esperienza da mettere a disposizione di un territorio prossimamente mi piacerà che intesa col presidente attuale facente funzione al quale va reso merito per il ruolo di unitarietà di intenti che ha potuto svolgere in momenti complicati e difficili prossimamente l'università possa segnalarsi insieme a Busetta, Di Mare e a tutti gli altri per iniziative di animazione territoriale che vadano fuori dai confini universitari, accademici per diventare motore attrattore dello sviluppo territoriale un'agenzia come il consorzio universitario non può trascurare questa missione Su Palazzo Tomasi invece cosa potrebbe diventare? Palazzo Tomasi è la bella cosa, cioè dal primo di gennaio mi auguro possa partire la convenzione col consorzio universitario e fare due cose insieme cioè fare in modo che nel centro storico di Agrigento nella Girgenti arrivino gli studenti così come accade nelle università che funzionano nel resto d'Europa non solo in Italia Pisa, Perugia e quanti altri e che ci continui a essere via Quartararo va bene ma che ci sia una sede istituzionale e anche diventi cuore pulsante di studenti ma nel piccolo l'abbiamo visto con l'Accademia di Belle Arti in via Bac Bac cioè quando arrivano gli studenti i centri storici si animano, vivono di luce nuova ed è quello che dobbiamo secondo me fare Grazie a tutti